Saranno 280 gli espositori nella tradizionale fiera dell'Epifania che dopo due anni di stop il prossimo 5 gennaio torna a colorare le vie del centro. La parte del leone la faranno gli espositori che giungono da fuori città e regione, ma ci sarà anche una componente locale. Un piano di sicurezza importante, quello messo in campo, redatto da tempo dall'ingegner saggese. Nel corso di questi mesi sono stati svariati gli incontri tra la FIVA e il Comune per organizzare al meglio gli spazi. Le bancarelle non intaseranno gli ingressi dei negozi del centro, così in quella giornata in cui inizieranno pure i saldi in Abruzzo ognuno avrà modo di lavorare. C'è molta attesa per questo appuntamento, un appuntamento della tradizione nel quale sono immancabili gli acquisti di calze della Befana, oggetti per la cucina e la piadina romagnola che non può mancare mai. Il percorso sarà più o meno lo stesso degli altri anni ad Anello in centro, ma la novità è che non sarà utilizzato il corso appena ripavimentato, per cui sarà usata solo la parte dalla villa in su per arrivare in Piazza Duomo. Il percorso sarà il corso Federico II, San Bernardino, Gli Asigni di Nicozzi, via Malta, via Legranzasso, Fontana Nominosa. Il percorso è sempre quello collaudato e che ci ha dato soddisfazioni. Gli operatori non sono 300, sono 280 per essere proprio bene, perché abbiamo dato più spazio alla sicurezza, abbiamo più aree per le ambulanze, ci siamo organizzati un po' meglio. Dopo due anni di pandemia siamo stati più attenti a queste cose, perché ancora stiamo un po' in preallarme. Voi quante persone attendete a questa fiera? I numeri sono stati sempre da record? Noi attendiamo sempre sulle 8.000-10.000 persone, perciò stiamo sicuri di cosa stiamo facendo, insieme all'amministrazione comunale, insieme al vice sindaco Raffaele Raniele, ci siamo coordinati con i vigili urbani, con le forze dell'ordine, con la costura e anche con la prefettura, stiamo veramente attenti a cosa accade il 5 gennaio, perché dopo due anni di fermo ci starà un bel afflusso e sarà assolutamente razionalizzato e messo veramente bene con le navette, col parcheggio al mercato di Piazza D'Armi, che abbiamo un bel parcheggio.